ciao ragazzi a tutti allora come vedete siamo retrocessi però qui ci dà una sconfitta in realtà la partita l'avevamo vinta 9 a 0 9 a 0 stavo vincendo a un certo punto è successo l'improponibile tanto la vedrete la partita c'è 9 a 0 a un certo punto disconnessione e l'abbiamo persa incredibile non si era mai visto nella storia di fifa non era così davano mi sembra un pareggio infatti infatti o comunque annullava la partita perché stai vincendo ma diamo la colpa coronavirus dai che probabilmente sia impossessato anche le server di fifa a brutto anche mamma mia credibile a non succede mai una cosa simile non l'avevo mai vista c'è vincite vinci 9 a 0 per il tavolino e per la partita a tavolino vabbè vabbè comunque abbiamo fatto una partita incredibile prima passione a ogni latitudine possono passare in vantaggio perché intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante ha riconquistato il pallone arrivo mamma mia c'è la manè provare ma tu si sta piacendo già la mette in mezzo interviene e sventa il pericolo vediamo cosa fa ora si va da van dijk attento eh questa è l'informazione iniziale del parisant germain il porto a trovare ok vandai che bisogna gioccerla bene con lui si fatti a vista un dribbravo anche deve stare sempre in difesa davanti accanto a cavani vallè fuori giù vediamo la formazione iniziale del liverpool per questa sfida dotterò una variante più potre siamo con il tripristian germain non è più bravo si è in grado di trasformarsi in attaccati aggiunti sul ribaltamento allora non so perchè non so perchè non so perchè a passare io dalla difesa era partioso in cima lui ma vai nostro nostro amo posso in mezzo eh perchè è venuto fuori oh oh non era male porca miseria adesso non ho visto più nulla però ci va controllare la partita mi piace senza estrarre troppi cappellini amo avanza verso la porta occhio può crozzare no era mia no me l'hanno preparata bellissima cazzo peccato mi darò cantare sonali mi darò cantare sonali che scuro che scuro bello lì che firmi scusami intervento ma vai ma efficace per recuperare il pallone intervento irrupido ma corretto nooo mamma mia di rischiare la faccio io da lui capo pericolosa bravissimo qui Fabinho Mané Anderson nooo l'ha presa bene 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 Anderson purtroppo bene bene fatta bella azione fatta cercare il silenzio eh si eccolo no mamma mia è rimasto anche lì no perchè mamma mia è scuro chi è occhio eh vai 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 no perchè la Dau si brutta ma perché la Dau si la dava malissimo lì è sì con quel modo veramente assurdo vai pigliala pigliala no no vai eccoci grande purtroppo grande Dio uuuu 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 via 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 no c'è via lui no c'è via lui no c'è via di te eh ce l'ho messo tutto eh zero cavolo dava male lì allora con il nostro attento eh ottimo controllo occhio e mezzo può cercare il cross bravi qui a bloccare tutto vai iniziamo a giocciare a calcio per benino vai sta giocando bene infatti vinaldum ma come allora intercettato senza problemi bravo 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 si vattene fuori vai vattene fuori vai meglio robertson occhio ma che cazzo è fallo è fallo sarà calcio di posizione per il Liverpool Van Dijk Van Dijk occhio occhio due non è fallo è fallo sarà calcio di posizione per il Liverpool basso lì eh bravo uuuu buono il recupero di Thiago Silva ma questo fatto è brutto la legna la legna pazzesca la legna pazzesca la mette in mezzo oh si era fuori giocata la vita è giallo per primo ma era fuori giocata eh non lo so forse si non lo so forse si non lo so forse si non lo so l'arbitro c'è la munizione sanzione giusta dal mio punto di vista pallo regatamente pallo alla girata sulla fascia nooo no 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 lui no ma il portiere il portiere era andato sulla fascia oson va bene è tua vai è tua è tua è tua no è tua ma fallo giù e la freccia giù del cazzo lì la passo lì eh non so auto passà bravo andrach mazzù uoooh l'azione che resta viva terreno bello si sarà di te la verità quanti di voi vorrebbero essere mi capisco perfettamente grande sarà nooo nooo Sì, addirittura giallo, addirittura giallo, addirittura giallo, incredibile. Un po' d'occhio sugli spalti, vale da solo il prezzo del biglietto. Bene, piano, 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 questo tirare il rosso come a vederlo. No, vai Portier, mamma mia. Voi, la nostra, la nostra, la nostra. No, andai, la nostra, la nostra. Non mi è piaciuta. Sì, questo anche se lo sfiori con l'aria. Sì, loro però, nel senso, loro, ma tranquillo, non succederà mai. Andiamo, ma che fa? Ehi, addio. Ok, a Buccaria è venuta fuori. Chi è sta bocca? Anderson, Salah, 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto Pier, altri tre minuti al termine. Vai, tu, 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 tu. Bene, vai. Vai, vai. A un certo punto c'è il silenzio. Eh sì. Fatelo, c'è il silenzio. È devasto. Mamma mia, Salah. Bello, bello. Sì, ma vedi, i singoli, perché lì correva talmente tanto, lo ripigliare su. Non lo fermi più. No, no, fatti. Vediamo, e che fanno? Che c'è? Ma che sono quelli di prima perché? No, questi non è. No, no. Di Maria. No, aspetta un secondo. Non voglio vedere che cascavo prima. Ma è successo? La settimana bordo. Primo tempo equilibrato, mi ha offerto un spettacolo di emozioni, divise e commento. Fantaic. Vediamo anche il dato sul numero di tiri in porta. Ripresa che si pronuncia sulla stessa falsarica. Ci sei? Ci sei? Rivellivo, no. Già, si è viso aperto per portare a casa la vittoria. La finestra sbattuta, la fa chiudere. Vai. Vieni. Vai, sono. E' bello da diretta, eh. Eh, sì. Ah, c'è anche Fabinho la freccia in giù, eh. Ah, eppure c'è la da 10, non l'hai mai detto. Sta giocando bene, comunque. Sì, sì, no, no. Fatti. Firmino si vede che quando va a concludere in porta è un po' ciao. La forza è tutta rimasta, mi sa che si è abbassa un po'. Non so come funzionano le frecce. Si è abbassa un po' su. Solo alcune cose. Bene. No, ciao. Ah, e perché? Cheщò, ok. No, non mi ha mai contanto è fallo. Sì, non mi ha mai portato a fare, non mi ha mai portato a fare, non mi ha portato a fare, non mi ha portato a fare. Questo è per fare perché ti ho portato a vendere. Sì, non mi ha portato a fare, non mi ha portato a fare, se ti ho portato a fare. Tu hai? Tu hai? Sala Sala Bella Firmino qui Nooo A girare Sbagliavo io Bravo Mamma mia Baccato Vai Sì Lo sai Mi conosci Ormai mi conosci Che so sta Te mi conosci ormai Che cuo Oh yeah Mi ha la superta a tavolino Eh già Cavanaccio No Che fa Ancora Qui fischia sempre Basta No era brutta E che fa Go No farigio No no Mi ha la superta a tavoli Ma è schiava brutta da questo Ma la c'è sta fede che si importa Da di sì Corri gioco Piano eh Uh guai Non è normale Raffanella anche io Sì La linea Molto Su forte Bravo Ossal Le munizioni sul regale Davo Sala bomba Eh Detta se non è la figlia Paris Saint Germain Prova a spingersi in avanti A metri per crossare Vai Aspettavo lì io eh Sala bomba Mané anche volendo Quei anche 14 Bravo So che sia Anderson Mamma mia Sì ma non era Mané Era Vinaldium Eh Mané non so dove era andare a finire Pernacchia Si era perso nei meanti e lo schifo Uh No La scena il mio Si è staccato Buono Mamma mia Mané Pure dall'altra parte era andata a finire Davvero Mamma mia Come corrono quei due Quei due sono Facciano anche la feccia su Oh Oddio Ecco No Vabbè ma come hanno fatto a segnare Mano Mano Cioè no dai Conti mano addirittura No Che assurdo No Brutto Ma noi Ma noi sempre Se schifezzi Non trovi no comunque Eh sì davvero Che schifo Sempre se schifezzi Oltre di noi eh Di mano no Di mano no Voi hai visti No di mano no No Incredibile Incredibile Che schifo No madonna davvero Gondimano mancava Nella partita di prima C'era stato l'intervento Di mano La parata di mano di coso Di mandai Che Li può parata Lì può parata Sì Vabbè ma E lui è baggato Quindi Può fare tutto Così però riapri la partita C'è anche la freccia in su Eh sì Mamma mia Dai basta Rossonim Sì sì No fan dai che non l'ha supero Una ci serve Dai Dai Anche 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 Noi Tu hai No Dai No Maledetto Oh mamma Oh mamma No Eh ma Sì è buono Pallone Pallone No brutto Mamma mia C'era go questo qui Sì Comunicato normale Sì Oh io 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 brutto questo Bravo Ma vai Bravo bravo No che tenuco lì Però sì Questi fanno un altro gol di mano C'è un po' eh Mamma Mamma mia Eh ma senza soffrire Eh forse Dai un gol di mano non c'era mai Oh Sti angoli Oddio Occhio È lì Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che è finissimo Che è finissimo Che è finissimo Che è finissimo Dottor cazzo Mamma mia È la mano Che è mano Era fallo Non voglio risoscedere io eh Viene Che guarda è schifo Sì è ho mandato via Che si grullo No vant'io Chi ha tutti questi giochini Basta Verrà Tu ha No se la tenevi Era partito Peccato Eh le mani Che ha le mani Eh le mani Avanza Palla al piede Rinaldo Fabinho Scomodo Dai Era Fabinho Sì Ecco Abbiamo capito Quando andava frecciando giù No l'aveva frecciando giù Bisogna tirare più Pensavo era Vinaldo Come ha detto Non li guardo Ma andava a calciare Capito Sul cronometro Mancano cinque minuti No L'ha fermato Buono Vai Fabinho Vai Guarda 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 Hai visto Avevo pigiato Per fargli fare intervento Subito Ha fatto quel modo Eh Firmino Uh Andora una volta Perfetto Del recupero Del pallone Anderson Anche Firmino Allora Anche Eccolo lì Eccolo lì Io lo sapevo Lo sapevo Rinaldo Mamma mia Rinaldo Rinaldo Bello Bello questo Gran gol questo Qui Sì Bello Questo Quarto gol Della gara Fissa Sul 3 a 1 Il contento Eh Guardiamo se si disconnette ora Che fa Ma che fa Eh Cazzo Via Spaccare Eh Che dici Dai Tenca strano lì Grazie di arrivare al pari Devono sfruttare Vabbè noi si tenero Sì ma che si può fare No davvero incredibile Cioè due gol Uno peggio dell'altro Ok Ma donna Sti passaggi Vai Va bene Dai Ma non si può Sfli così Ma non è male Eh Non si può Sfli così No No Assurdo Gol di mano Va Ma ragazzi Al prossimo match Continuiamo il cammino Ciao a tutti Ciao a tutti